Ma cos'ha in testa Erivi? E' finalmente dicembre! Oggi è venerdì 2 dicembre, lo vediamo dal campionato. Io sono Erivi Natalizia. Io sono M, ma ancora in total black. Total black, ma questa è la nostra sigla! E' in silvere? Adesso ti dico perché ho questo cappello in testa, perché ho dei capelli sotto che fanno spavento. Ecco, ho passato una settimana di inferno, ho avuto l'influenza. Sono andata a lavorare tutti i giorni, ma adesso mi sento meglio. Che brava lavoratrice che sei Erivi. Non mi daranno neanche la medaglia. Ma lavoro vai con questo cappellino? No, no, no. Sono già licenziata in troppo. Un certo stile da mantenere, tutto senza il cappellino. Ti senti già nel mood Natalizio? Sì, dai, io sono un piccolo grinch, però voglio dire, cioè è dicembre. Se facciamo un bilancio quest'anno non è stato propriamente male, io mi sono anche sposata. Però ho proprio questa volontà di andare via, di buttare via quest'anno e entrare nell'anno dei miei 40 anni. Aia, aia, aiuto, aiuto, aiuto. E poi grande festa. Grande festa a conto di Francia. Facciamo un fessone, secondo me invece parti e scappi. Sì, io penso che farà così. Comunque, vanno alle ciance che c'è tantissima roba da dire. Un sacco di roba, infatti mi sono preparata il quadernino. Il quadernino anch'io perché trend mi sta diventando un po' impegnativo. Corposo, sta diventando corposo, quindi iniziamo con la prima rubricetta che è la posta del cuore. Senti che bella sigla, senti. Guarda che bella, come fa bene. Qui c'è un cuore nero. Oggi, black, totalmente. Ok, chi ci ha scritto? Dai, che sono curiosa. No, questi messaggi ce l'ho ancora sul cellulare. Ok. Ciao ragazze, sono di nuovo io. Ciao, io chi? Enrico. Tu ti ricordi di Enrico? Era quello dei bigliettini? Infatti, esatto, proprio lui. Luca. Non so se vi ricordate, ma sono il ragazzo dei bigliettini. Certo che ci ricordiamo. Quindi ci dice come non è stato? Una ragazza mi aveva lasciato questo bigliettino col titolo di una canzone che poi vi avevo svelato in diretta. Era Psycho Killer. E ho questi aggiornamenti da darvi. Alla fine ho deciso di lasciargli anche un bigliettino, ma non con una canzone. Con il mio numero di te. Uuuuuh! Qua voglio applausi, applausi alla stragrande. Beh, ha risposto con audacia a un messaggio di audacia. Quindi secondo me ha fatto la scelta migliore e ci dice. Ho fatto bene, si risponde da solo, dice direi di sì. Ok. Perché oggi, finalmente, dopo ben due settimane, ci siamo visti a lavoro e abbiamo chiacchierato per un po'. Non so come andrà avanti la cosa, però io sono contenta del mio passo, anche perché lei è una ragazza molto simpatica. Voi cosa ne pensate? Ho fatto bene, oppure no? Beh, mi sembra che abbiamo già risposto. Noi abbiamo risposto. Hai fatto benissimo, però questo sta diventando la nostra telenovela. Assolutamente, noi vogliamo tutti gli aggiornamenti. Step by step, se uscirete insieme, dove andrete, che cosa farete. Che cosa vi direte. Che cosa vi direte, se mangerete, se farete dell'altro. Esatto, che non potremmo dirlo. Ma fa niente. Però, guarda, io quando sento queste belle cose che succedono, romantiche, poi magari andrà malissimo, non si sa mai. Ma questi passi, poi soprattutto questi ragazzi svegli, cioè ragazzi svegliatevi, così bisogna fare, no? Bisogna buttarsi. Ah, si dice che il toro va preso per le corna. Ebbene, giusto. Fatelo, perché se no nessuno vi dà niente, né nella vita lavorativa, né nella vita amorosa. Nella vita in generale, quindi è giusto buttarsi, provarci, spaccare il mondo e poi le cose vanno come devono andare, no? Si vede che è arrivato dicembre, comunque, perché siamo veramente troppo buone. Io sono nel mood tristezza. Tristezza, per favore, va via, carogna, io vestito come una pallina di Natale. E Natale mette un po' di... Eh, questo è un altro tema che potremmo affrontare nelle prossime settimane. Ma, guarda, Enrico, quindi complimenti. Facci sapere, quindi next. Che bello, che bello. Comunque, secondo me abbiamo iniziato a scartare i nostri regali di Natale, cioè Enrico che ci risponde di nuovo e ci dice come sta andando un super regalone. Io sono contentissima. Manco fosse il Pasqualone. Il Pasqualone, che bello, dovresti portarlo come sblocca ricordo. Ma forse l'ho già portato. Ah, ecco, vedi. Nelle puntate precedenti in cui tu non conducevi con me questo programma. Che brutte puntate. Mamma mia, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. A proposito di sblocca ricordo, seconda rubricchetta. Seconda rubricchetta. Ti sblocco il ricordo. E vai, sblocca il ricordo. Si sta vedendo. Eccolo qua. Ti dice qualcosa? Assolutamente sì. Che cosa? Mi ricordo il cartone. Allora, adesso non ti so dire titoli, nomi, cose e vicende varie. Ma me lo ricordo perché lo guardavo su un piccolo cartone network. E invece no. Allora, questo intanto diciamo che cos'è. Allora, è un cartone animato, assolutamente sì. Daria si chiama. No, me lo ricordo. È una sitcom animata statunitense che è andata in onda dal 1997 in America e fino al 2002. In Italia è andata in onda dal 1998 al 2001. E chi la faceva vedere? Chi la faceva vedere? È in TV. Ma dove eri B? Comunque tu, cioè ci fosse ancora in TV. No, no. C'è ancora comunque. Sì, ma su Sky o quel che è. Sì, sì, sì. No, io fissavi. Io fissavi, assolutamente. È nata da uno spin-off di Be This Embedded. Che sono questi due personaggini adolescenti, apatici, maleducati, con un umorismo volgarissimo. Ruttavano, facevano qualsiasi cosa. Faccevano di tutto. Daria era un personaggio secondario, era una compagna di classe in sostanza. che aveva degli abbigliamenti differenti, invece nel cartone animato lei è così. Capello castano, occhialuta, giacchetta verde, maglietta arancione, una gonnellina. Ah, per quello ti sei messa verde e arancione stasera? Sì, sì, chi può dirlo. Comunque inizia tutto con l'arrivo della famiglia di Daria, che ha un cognome lunghissimo che non vi sto a dire, a Londale, ha una sorella, Queen, se fargli vedere tutti i personaggi si vede anche la sorella Queen, a cui riesce tutto, lei è bella, quella con i codini, quella vestita da cheerleader. Ah, ok, ok, la fighettina della scuola, diciamo. Invece Daria è cinica, anticonformista e lega solo con Jane Lane, che è la ragazza con i capelli corti, con la maglietta rossa. Mi ricorda qualcuno? Chi? Tu. Ah, ok, sedicenne, intelligentissima, matura, più della sua età, ama la verità, ma appunto è sarcastica, che è un sarcasmo molto particolare per una ragazzina di 16 anni, verso tutti. Gli altri personaggi appunto sono questi, Jane Lane, artista, che odia le convenzioni, Queen, che è la sorella appunto molto particolare, che a me fa molto ridere perché la sorella di Daria non dice mai di essere sorella di Daria. Ah, si vergogna. Si vergogna e dice, no, vabbè, una mia parentela lontana, una mia cugina, cose del genere, esatto. Ma veniva bullizzata Daria. Eh, un pochettino, si, veniva bullizzata, aveva pochissimi amici, però riesce anche ad avere delle storie d'amore. Eh, infatti abbiamo visto prima col bacio. Esatto, molto interessante anche, eccolo qua, che però non mi ricordo bene come si chiamava. Beh, però diciamo che quindi aveva un bel caratterino. Aveva un bel caratterino. Allora, io lo trovo molto attuale, nel senso che stava molto, tra virgolette, da sola, aveva i suoi momenti di introspezione, le piaceva leggere, faceva una serie di cose. Era diversa, un po' appunto dal... Se vogliamo un po' diversa, però comunque la dimostrazione del cartone è che comunque le sue cose le facevano stesse. E poi non l'hanno più fatto, basta. Non l'hanno più fatto, però ragazzi, ci sono cinque stagioni e ben due film. Ah, pure il film hanno fatto? Sì, due film, che si chiamano, uno è già autunno e l'altro è già ora di andare al college. Ah, perché poi si vede che avranno fatto vedere dopo che va al college. E soprattutto c'erano anche i due genitori, la mamma super in carriera, che però riesce anche a dedicare del tempo per i figli, e un papà freelance un po' frustrato del fatto che la moglie è un po' più, diciamo, potente. Bello, ma sai che ho voglia adesso di riguardarmi? Eh, allora, non so, stavamo discutendo anche in redazione. Prima, se effettivamente da qualche parte si trova, non lo so, non ho fatto questo tipo di ricerca. Vabbè, noi faremo questo tipo di ricerche e poi ti diremo se ci piacerà, se ci è piaciuto o meno. E tu lo guardavi, quindi sui film, come l'idio. Io lo guardavo fissa, ma perché mi riconoscevo in tantissime cose. Infatti mi ricorda molto, soprattutto per il verde l'altro. Sì, forse per questo. Mi ricorda molto, nel senso mi ricorda molto me stessa, ma il cinismo è una cosa che si apprende diventando grandi, quindi a 16 anni non ero così cinica come lo sono adesso. Aiuto, è dopo di questa, guarda. Bello, sblocchi i ricordi di B, come sempre, io ti ringrazio perché mi piace. Questo è un ricordo di nicchia, secondo me. Non è una roba super, super diffusa. Allora, lei è diventata iconica, lei è diventata iconica, però secondo me chi l'ha visto realmente non siamo in tantissimi. No, dici che poi col tempo... Non è che faccio così perché sono matta, è che mi frudo il naso. Ma vuoi anche soppiartelo se vuoi. No, 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 grazie. Va bene, bello. Bello, andiamo avanti. Ci piaciuto, andiamo avanti con la nostra frutta che è tra... Fisgami di M.M. Che non è metropolitano milanesi. Esatto, esatto, grazie a Ribic che lo spiegherò sempre. Dovevo sempre specificare. Perché si sa mai che sbagliate. Ti dico, allora, io parto con la domandella. Vai, vai. La mia domandella è... Sì. Come finisce il tuo codice fiscale? Le ultime tre lettere... È ovvio che lo so. Come finisce? Con F205. Ecco, ecco. Se vuoi ti posso dire anche la lettera attribuita a caso, se vuoi. No. Perché io ho fatto questa domanda? Perché? Perché il mio sgamo qual è? Mi è capitato, mi è capitato tante volte, che mi dicessero, ma tu non potrai mai diventare una vera milanese, perché il tuo codice fiscale non finisce con F205, ma il mio finisce con 674. Ma non c'ha una lettera però prima, attenzione. Sì, infatti. Ok. Perché è quella che definisce tutto. C, C674. Sì, cara. Perché sono andata a Pinerolo. Quindi, il mio sgamo qual è? Che quando vi chiederanno, appunto, e vi diranno, ma tu non sei un F205, perché se la tirano molto. Ma io ho sentito anche di gente che abita magari a Settimo Milanese, no? E quindi dice, vabbè ragazzi, di dove sei? Sono di Milano. Eh no? Eh no. Com'è il tuo codice fiscale? Allora, innanzitutto Settimo Milanese non sono nati a Settimo Milanese, quindi può essere che se non è nato a Milano. Esatto. Ma molti infatti dicono, molti infatti poi dicono, no, io posso dire di essere di Milano perché sono un F205. Siete proprio arroganti. Chiedimi, chiedimi, dove sono nata io? Dove sei nata? Io sono nata alla regina Elena. Sai dov'è la regina Elena? Di fronte all'università statale. Mamma mia, che milanese, che milanese. Esatto, a fianco al policlinico, proprio precisa, precisa. Quindi sei una vera, vera, vera. Diciamo che sono una vera nata a Milano. Esatto. Poi essere milanese è un concetto astratto. Assolutamente. Però io lo so che nel mio piccolo non potrò mai essere al 100%. Allora, secondo me invece te ne devi un po' fregare e essere milanese senza essere nata a Milano. Bene, ci proverò. Questa è la sfida, la missione del 2023. Esatto, per noi puoi risiede. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti con la prossima rumpri. E questa canzoncina ci dice tutto. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Che eventi ci hai portato, Ribbi? Allora, 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 allora. Allora, innanzitutto da domani inizia l'evento che più odio nell'anno. I mercatini in luogo. No, quelli sono già iniziati ieri. No, eh no. No, primo dicembre. Eh, lo so, invece ci hanno fregato. Vi dirò che ieri mattina non c'era ancora, ancora non avevano finito di montarli. Baggianate! Sbagliato, hanno sbagliato. La cosa che più odio al mondo, nella milanicità in generale, è l'artigianato in fiera. Eccolo lì. Posso dirla grossa? Che palle! Non si dicono le parolacce. Ormai secondo me che palle non è più una parolaccia, tra l'altro. Invece sì, non si dicono queste brutte parole. Diciamo che siamo un po' annoiati da questo artigianato in fiera. Sai perché non ci vado? Innanzitutto perché è al chiuso. Ecco. E quindi mi fa venire un po'... Fiera Ro. Mi fa venire un po' d'ansia. È gratis, quindi... Quindi ci sarà pieno così. E poi fa troppo caldo lì dentro. Io mi ricordo queste scene pazzesche di gente col trolley che mette dentro... Ah, comunque mi ricordo bruttissimo. Dentro. Se tu ci vai, vedrai che ci sarà qualcuno col trolley per mettere dentro il cappotto, non per altro. Ah, vabbè, furbi però. C'è il trolley messo dentro il cappotto. Esatto. Quindi da 3 all'11... Ma secondo me quest'anno con il riscaldamento... Eh, non c'è visto la musica! Potrebbe anche essere. È un fratto barbino. È un fratto barbino. Sì, sì, è un fratto. Comunque dal 3 all'11 a Fiera Milano ora potete andare gratis, divertitevi, io non ci andrò mai. Poi c'è il festival dedicato al panettone, anche questo gratis ragazzi. Quindi si mangia panettoni? 3-4 dicembre a Villa Burba, non mi chiedete se dove è Villa Burba perché purtroppo non lo so. Quindi non ti posso aiutare. Ma, ma, ti posso dare un altro evento? Vai, dacci un altro evento. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì! E no, è più avanti. Quindi... Ah, sì, 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 sì! Ah, c'è il garabombo. Tu sai che cos'è il garabombo? Ah, il garabombo. Ti vedo entusiasta. È a Pagano. È a Pagano. Anche questo è un mercato praticamente coperto. Allora, questo è un evento che in parte andrà e in parte no. È quello Eco Solidale. È Eco Solidale. Mi piace l'idea, mi piace l'idea, però poi purtroppo dentro ci sono le persone, quindi... Allora, milanesi, organizziamo un evento dove ci potrà andare solo Eri B. Esatto. Solo lei e basta, e sarà l'unico evento a cui Eri B andrà. Esatto, esatto. E c'è anche la prima della scala diffusa, comunque. È un'altra di quelle cose che un po' mi dà passì. Gli eventi diffusi non mi piacciono, però riesco a capirne il senso del cos'è fruibile a più persone. Esatto, per tutti quanti. Dai, ho fatto anche la brava. Sì, devo ammettere che dicembre ti ha portato un po' di entusiasmo, di gentilezza e felicità. E entusiasmo soprattutto. Quindi Eri B, grazie per questi eventi a cui noi andremo e ti faremo sapere quanta gente ci fa. Esatto, esatto. Allora, innanzitutto poi, vabbè, ricordiamo alla gente che noi ci potete anche sentire... Assolutamente, sì. ...tutti i lunedì sera. Dalle 20 alle 21. Dove? Su Crystal Radio. Ok, Milano si sente. Esatto. In questo caso Milano si vede. Esatto. E noi porteremo sempre trendi, ma ovviamente è in modo un po' diverso. Facciamo la versione radiofonica. Esatto, ci divertiamo sempre un sacco, ci mandano un sacco di messaggi, siamo contenti che ci guardate, ci ascoltate. Non ci sopporterete più, io sono sicura, ma iniziate la settimana bene. Due volte alla settimana siamo impegnative. Però la iniziano bene e la finiscono benissimo. Esatto, meglio, meglio. Meglio. Ok, noi abbiamo concluso. Sì, allora la domandella della scorsa settimana. Sì, la domandella della scorsa settimana era... Era... E ti dirò anche chi ha vinto, ovviamente. Ok. Era leggere un libro vero oppure ascoltare l'audiolibro. Sì. Che cosa preferite? Ma io forse l'audiolibro in questo momento. Ma anche quando sei a casa o più tanto di uno? No, no, anche quando sono a casa, perché purtroppo in macchina ascolta che sta a radio. Ecco. E invece l'87% delle persone ha votato il libro vero da leggere. Eh, anch'io un tempo era così, ma purtroppo non ho attenzione, non riesco più a stare molto attenta. Ti dirò, io ieri sera ho iniziato a leggere un nuovo libro. Brava. Sì, mi piace un sacco, sono molto contenta. Guarda che bello toccare la carta. Sì, 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 sono d'accordo. Non è che ho detto di no. Sì, quindi leggete un po' di più. Cioè, che non ho un disturbo di attenzione, secondo me, da adulta. Ma, bando allecianti, facciamo l'ultima cosa, cioè la domandola della settimana con cui vi lasciamo. Noi vi salutiamo. Esatto, ci sentiamo lunedì e ci vediamo venerdì prossimo. Innanzitutto, è dicembre, cercate di essere più gentili con gli altri, sempre. Sì, vuoi quasi abbracciarvi. No, 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 non ho fatto. Allora, la domanda della settimana è, ma tu preferisci andare in palestra o andare in piscina? No, 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 no.